Joe Biden ha una qualità molto rara nei politici. Gli scappa ogni tanto di dire quello che pensa, di dire addirittura la verità. Per alcuni sarà un difetto, per noi che di mestiere cerchiamo di capire e di analizzare quello che accade è un grande vantaggio. Mi riferisco al discorso che il 19 ottobre il Presidente degli Stati Uniti ha tenuto agli israeliani e al mondo per sostenere la loro causa e allo stesso tempo per avvertirli a non fare degli errori che l'America ha fatto. Ma vorrei citare testualmente le parole di Biden. Giustizia deve essere fatta, ma vi do un consiglio. Mentre provate rabbia, non fatevene consumare. Dopo l'11 settembre in America eravamo arrabbiati e mentre cercavamo giustizia e mentre ottenevamo giustizia abbiamo anche commesso errori. È necessaria chiarezza sugli obiettivi e una onesta valutazione di come la via che seguite raggiungerà quegli obiettivi. Il chiaro di così, in sostanza, non rifate la guerra al terrorismo. Ricordiamo infatti che dopo l'attacco alle Torri Gemelle, gli Stati Uniti lanciarono la grande crociata contro il terrorismo, contro il terrorismo islamico, che veniva definito nei modi più vari, risultato una guerra senza fine conclusa con l'ingloriosa ritirata dall'Afghanistan presieduta dallo stesso Biden. E perché? Perché primo non si fa la guerra a un metodo bellico, tale è il terrorismo. E secondo, non avendo chiaro l'obiettivo finale, per il semplice motivo che non può esistere un obiettivo finale nella guerra al terrorismo, si rischia di farsi del male. E qual è il male che si è fatta all'America nei vent'anni di cosiddetta guerra al terrorismo? Beh, perdere credibilità. Chi è costretto a rincorrere l'avversario e a moltiplicare i propri interventi diretti o indiretti nel mondo, evidentemente non guadagna incredibilità, anzi mostra la corda e favorisce i suoi nemici che vorrebbero impegnare contemporaneamente l'America su più fronti in modo da logorarla, demoralizzarla e infine costringerla a venire a patti più favorevoli a loro i nemici piuttosto che all'America. Riportiamo questo consiglio di Biden al contesto. È in corso, mentre parlo, ancora la preparazione di quella che dovrebbe essere l'operazione definitiva per liquidare Hamas. Operazione che deve comunque prevedere in un modo o nell'altro la penetrazione di forze israeliane a Gaza, in un territorio cioè largamente urbanizzato e estremamente stretto, che ha una superficie ma che ha soprattutto centinaia di chilometri di tunnel sotterranei che i combattenti di Hamas conoscono alla perfezione perché li hanno costruiti e dove custodiscono probabilmente migliaia di missili che Israele deve assolutamente distruggere, prima che in un'altra occasione vengano di nuovo utilizzati contro il suo territorio. Un'operazione quindi a estremo rischio perché è di fatto la guerra che Hamas vuole e che è esattamente il contrario di quello che la dottrina israeliana raccomanda e cioè guerra breve impiegando lo stretto necessario di forze per vincere rapidamente ma sapendo di non poter consumare troppo delle proprie risorse perché Israele è un paese piccolo con una demografia relativamente piccola e quindi ha bisogno di conservare alla fine della guerra un vantaggio e soprattutto deve essere chiaro chi ha vinto e chi ha perso e nel computo delle guerre combattute da Israele Israele può effettivamente vantare alcune vittorie strategiche o anche come nel caso dello Yom Kippur 1973 un pareggio che ha comunque lasciato le cose dal punto di vista del controllo geopolitico di Israele del territorio piuttosto favorevoli a Israele. Ma raggiungere questo obiettivo a Gaza è molto complicato. Primo perché Hamas che la si consideri o meno un'organizzazione terroristica è estremamente ramificata anche fuori da Gaza i suoi veri capi sono fuori dalla striscia e quelli che ancora stavano dentro il 7 ottobre molto probabilmente sono altrove per esempio in Qatar o in altri paesi. Soprattutto Hamas può godere di un notevole sostegno all'interno del campo palestinese anche fuori di esso non mi riferisco solo al suo sponsor strategico l'Iran o al suo sponsor finanziario il Qatar ma anche a quella che si chiama la piazza araba o la piazza islamica che è ovviamente molto sensibile e lo sarà molto di più una volta cominciata l'offensiva israeliana a Gaza. Israele ha dichiarato un obiettivo che anche questo mi pare abbastanza difficile da raggiungere e cioè tagliare il cortone ombelicale che ha finora legato Israele alla striscia di Gaza dopo che nel 2005 Sharon decise di abbandonarla. Perché? Beh l'obiettivo degli israeliani allora era abbastanza chiaro a Gaza non abbiamo nulla di particolare da conservare rischiamo continuamente rischiano i coloni di finire molto male se noi ci ritiriamo da Gaza e dimostriamo quindi anche buona volontà nei confronti dei palestinesi e al mondo ci liberiamo di un problema e lasciamo la patata bollente a coloro che prenderanno il nostro posto. Peccato che nel frattempo invece che l'autorità nazionale palestinese a Gaza si è installata clamorosamente questa organizzazione Hamas movimento per la resistenza palestinese come si definisce nell'acronimo che fra l'altro è bene ricordarlo fu incentivata qualche anno prima da Israele parliamo del governo Rabin come contraltare come contrappeso alla prevalenza di Arafat in campo palestinese solo che oltre a essere un contrappeso alla fine Hamas ha preso una autorità tale da potere probabilmente sfidare e vincere quel che resta dell'autorità nazionale palestinese nel caso in cui molto improbabile questa autorità che oggi è confinata a Ramallah decidesse finalmente di far svolgere le elezioni palestinesi e quindi di riformare un minimo di legittimità a chi dovrebbe rappresentare la palestina il fatto di avere Hamas a Gaza ha costretto Israele a una sorta di manutenzione tattica cioè evitiamo che Hamas ci faccia troppo male e quindi cerchiamo quando è necessario usano questo termine di tagliare l'erba cioè di colpire con operazioni di rappresaglia rispetto agli attacchi missilistici che di tanto in tanto ma piuttosto spesso Hamas lanciava da quel territorio con l'aiuto di alcuni partner avversari mi riferisco in particolare al Qatar paese arabo strapieno di soldi che ha permesso in una sorta di sistema di manutenzione concordato con lo stesso Israele con l'Egitto e alla fine con lo stesso Hamas di mantenere per questi 16 anni un equilibrio estremamente instabile ma comunque un equilibrio che si è rotto il 7 ottobre con l'operazione tragica condotta dai commandos dell'organizzazione Hamas che ha colto completamente di sorpresa completamente sguarnita la difesa israeliana che cosa quindi può voler dire tagliare il cordone umbilicale beh una cosa probabilmente potrebbe significare e cioè spianare Gaza Israele sta bombardando in maniera piuttosto drastica il territorio gasiano in questi giorni come risposta come risposta direbbe Biden di rabbia all'aggressione di Hamas e questo potrebbe convincere almeno una gran parte della popolazione gasiana ad abbandonare quel territorio già ma verso dove perché l'Egitto non li vuole vedere neanche col binocolo perché semplicemente si tratta dal suo punto di vista dei nemici dell'attuale regime fratelli musulmani assolutamente inaffidabili anzi contrari ad Alsissi che peraltro entrerebbero in un territorio egiziano il Sinai che di fatto è già piuttosto fuori controllo e dove impazzano bande criminali di vario tipo altrove vuol dire attraversare il territorio israeliano o buttarsi in mare insomma ipotesi tutte molto molto complicate è probabilmente altro quello che stanno immaginando gli israeliani ma ancora non sappiamo bene cosa e questo prolungamento dell'attesa dell'invasione di terra che dovrebbe essere un'operazione molto più selettiva e molto meno clamorosa da un punto di vista militare di quello che si immaginava ma appunto vedremo questo prendere tempo significa che probabilmente in israele quelle parole di biden quell'abbiamo sbagliato non ripetete il nostro errore potrebbero avere indotto qualche riflessione ma allo stesso tempo potrebbero avere messo di fronte israele alla realtà di fatto che qualsiasi mossa faccia rischia di portarla verso quel meccanismo fuori controllo che in questi vent'anni ha logorato l'america e certamente israele non è l'america in nessun senso non può permettersi guerre di logoramento specialmente se nel caso la guerra durasse parecchio si allargasse ad altri fronti come quello del libano della fisgiordania ed eventualmente dio non voglia diventasse una guerra regionale che potrebbe coinvolgere anche l'iran biden è stato comunque chiaro l'america non vuole tornare in medio oriente vuole difendere certamente israele ma senza impegnarsi in una guerra medio orientale vedremo i prossimi giorni ci diranno in che modo in che misura e se biden ha inciso nella strategia israeliana grazie a tutti grazie a tutti